Io sono uscito nel Vico e ho visto la polvere, ma molto, molta polvere. Mi siamo andati a vedere e il palazzo è già caduto. Ennesimo crollo da Fragola, ennesima tragedia sfiorata. Questa mattina, poco dopo le 10, a cadere giù è stato il solaio di un'abitazione sita in Vicolo 3, Principe di Piemonte, nel cuore del centro antico della città, a pochi passi dal municipio. L'edificio, interessato dal cedimento, è radiacente ad un cantiere, aperto da alcuni mesi per la costruzione di un nuovo stabile. Sì, stavano facendo i lavori e sono scappati tutti, perché, logicamente, hanno visto i carri e sono andati a fiù. Sul posto sono immediatamente giunti carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco di Fragola. Al momento, per ragioni di sicurezza, risulta interdetto il traffico sia pedonale che veicolare e sono stati sfrattati tutti i residenti dell'edificio. Una signora con i bambini, due bambini piccolini, questo è il problema. Non ci sono fortunatamente feriti, ma tra vicini e abitanti del luogo c'è già chi grida al miracolo. La parte crollata è infatti quella della stanza da letto dell'appartamento all'ultimo piano. Solo per un fortuito caso, l'anziana signora che vi abita si trovava al momento del crollo in cucina. Resta però la paura per altri cedimenti. Chi sarà e quanti vuoi non sapete che mi fanno. Chi si fanno i carri di tutto, penso che dovrebbero fare qualcosa per fermare i lavori. Al giorno ci fanno i mesi la vita.